C'è un livornese a voglia di mangiarsi un conigliolo, si chiede, prende, va in campagna nelle zone di Pisa a comprare un coniglio, andrà arrivato al contadino, gli fa oh, dimmi, se è de, volevo un conigliolo da mangiare, il contadino lo guarda gli fa senti, ce n'ho due d'apposentità, c'ho questo che viene 20 euro e c'ho quest'altro che viene 10 il livornese lo guarda gli fa, de, e perché uno costa 10 e uno costa 20? eh, perché quello da 20 di essa non c'ha niente sicché lo faccio 20 euro, quello da 10 è malato, c'ha l'AIDS e lo faccio un po' in a meno, i livornese ci pensano un attimo fa no, no, oh, mo, dammi quello da 10, tanto c'ho da mangiare, non c'ho mie da buttare io nel culo, eh